1923-2023, cent'anni di scautismo a Pesaro da celebrare tra quello che è stato e anche tra quello che sarà di questo movimento in tre giorni dedicati a Piazzale della Libertà dal 16 al 18 giugno. Sì, innanzitutto una grande emozione di poter festeggiare questo grande traguardo di cento anni, cento anni di presenza dello scautismo qui a Pesaro nel territorio. Vogliamo aprirci tantissimo alla cittadinanza, quindi veniteci a trovare, prepareremo attività tipiche di un campeggio scout, ci saranno i lupetti che ci faranno le nostre attività, le coccinelle che anche loro prepareranno qualcosa, esploratori guide, tutte le varie fasce educative di cui ci occupiamo. Un altro evento importante che abbiamo preparato è il convegno sicuramente che sarà il 16 giugno, venerdì 16 giugno al Parco Molaroni. Saranno presenti Monsignor Zuppi, il presidente della CEI, il vescovo di Bologna, che risponderà alle nostre domande con un pedagogista dell'Università Cattolica di Milano, Johnny Dotti. E inoltre saranno presenti anche capo guide e capo scout che sono un po' i nostri rappresentanti dell'associazione a livello nazionale. Un convegno volto al futuro, il titolo sarà appunto Generare Futuro, perché il centenario deve essere sì una ricorrenza, ma deve essere anche uno sguardo a quelli che saranno i prossimi cento anni. Non abbiamo intenzione di mollare. Generare Futuro si parte anche da una bella base, perché 1200 iscritti ai movimenti scout provinciali sono numeri importanti. Sì, è un po' di tempo che stiamo su questi numeri, siamo molto contenti della presenza nel territorio, vorremmo fare di più, ma noi comunque siamo tutti quanti volontari e oggi trovare tempo per tutte le cose che ci sono da fare è sempre più complicato. Facciamo servizio, togliamo spazio a quello che è il nostro, non mi piace dire tempo libero, perché oggi il tempo libero non esiste più, quindi togliamo spazio a quelli che sono gli altri impegni della nostra vita per dedicarlo un po' agli altri, per essere un po' autori di quello che poi saranno le generazioni future, mettere un po' di seme per l'educazione delle generazioni future.